Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Fabrizio Giulisiano, che la dedica a Gianmarco. Il film di cui vuole che parli è del 1979, del grandissimo Don Siegel, con lo splendido Clint Eastwood come protagonista, ed è Fuga da Alcatraz, scritto da Richard Taggle, tratto dal libro omonimo di J. Campbell Bruce, chiaramente Clint Eastwood per un film corale, perché poi ci saranno molti altri protagonisti, ma la storia vera di questi tre criminali che sono evasi da Alcatraz, dalla quale non era mai evaso nessuno. Quindi una storia molto importante, uno dei film di galera e di fuga e di evasione più grandi della storia del cinema, proprio perché Don Siegel è un mostro. Il film ragiona con tantissimi dialoghi ben scritti, ma soprattutto è la macchina di rappresa che riesce a parlare in mezzo a queste mura, riesce a muoversi con dei piano sequenza incredibili, con delle panoramiche fantastiche, con un'idea di carrelli avanti e indietro che veramente ogni volta fanno creare e crescere l'ansia, e in più poi i personaggi sono tutti veramente esterizzati bene, che sia English, l'uomo nero che ha ammazzato due bianchi per legittima difesa, Charlie che è un semplice ladro di macchine, Chester Danton, mitico quello che è un pittore che poi si taglia le dita in quella scena incredibile, e il mitico torna sole che tiene con sé un topolino. Gira tutto intorno a questi personaggi, alle angherie che subiscono e soprattutto al piano che hanno per l'evasione, e contro il cattivissimo direttore del carcere è Wolf, per un film drammatico sicuramente, un film però che ha un ritmo come ho detto omicidiale, incredibile, con una sonora splendida, di Jerry Fielking e un montaggio che vola, di Ferris Webster oltre a una splendida fotografia di un grande Bruce Trace, per un film come ho detto che è un capolavoro, per me un capolavoro del cinema, Don Sigler è un genio, e questo film sta qui a dimostrarlo, per come riesce a farci entrare dentro la testa di questi personaggi, per come riesce a non essere manicheano nella descrizione degli stessi, per come riesce, ripeto, a passare da una scena drammatica, a una scena ironica, a passare da un modo di fare all'altro senza colpo ferire, grazie alla sua regia meravigliosa. Poi Eastwood e tutti gli altri attori, come ho detto, volano altissimo, Clint col suo voler essere così, in un certo senso reazionario all'interno del carcere, quando poi in realtà forse è il più aperto di tutti, quindi un film molto particolare, che un'altra volta racconta una fuga, racconta degli antieroi, e lo fa con un piglio meraviglioso, quello di un Don Sigler che, ripeto, è un genio, ancora bisogna stare a dirlo, perché sembra completamente dimenticato praticamente dal pubblico. Questo Fuga d'Alcatraz, ripeto, è uno dei film più belli di evasione, uno dei film più belli di carcere mai fatto, ed è un grandissimo film, appunto, che mescola questo biografico con questa storia vera, perché fu una vera storia di evasione di questi tre, messa insieme a 6.000 altre cose che appunto raccontano l'America, raccontano il male di un certo tipo di carcere, raccontano appunto la solitudine, raccontano l'umanità e l'amicizia, attraverso però dei personaggi veramente fantastici, una narrazione fluidissima, ripeto, che grazie alla messa in scena di Don Sigler diventa di quelle da non perdere assolutamente, visto che qui si parla veramente di uno di quei capolavori del cinema dei quali è inutile anche avanzare troppe discussioni, nel senso che qui c'è poco da discutere, il film ha un ritmo perfetto, ha una tecnica micidiale, ha degli attori clamorosi, ha dei dialoghi scritti benissimo, ripeto, della regia riesce a parlare ancora meglio dei dialoghi, a farci entrare ancora di più in tutto quello che vuole raccontare, quindi per me un capolavoro imperdibile di quelli che devono essere nelle case di tutti e che devono essere perlomeno visti, perché qui siamo di fronte veramente a un film dal quale hanno preso tutti, non solo per la storia, ma proprio per il ritmo, un certo tipo di montaggio, ripeto, che il grande, grandissimo Don Sigler aveva nel sangue, capolavoro assoluto, il link è qua sotto, donatevi sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, il super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia, e loro ridio, Fuga da Alcatraz non è un film, insomma, così che si vede un buon film, no, non vi fate fregare da chi dice è un filmetto o qualcuno, ho sentito anche dirgli di peggio, Fuga da Alcatraz è e il resto è un capolavoro dei film di fuga e inoltre rimane un capolavoro appunto per come riesce a usare la macchina appresa e come riesce a usare i personaggi all'interno della stessa grandissimo Sigler che con questa profondità di campo, con questa ambientazione, con questa idea appunto ci fa vivere nel carcere, ci fa anche emozionare e sentire veramente forti nella fuga, come se noi stessi fossimo quelli che devono scappare, film eccellente.